ciao ciao a tutti rieccoci con un nuovo video e questo sarà un video tutorial vi spiegherò come realizzare questo perno che ho deciso di chiamare perno girasole non non si vede molto bene è appunto il perno che ho utilizzato nella versione nera degli orecchini serena ve lo mostro appunto nella versione che andremo a realizzare oggi è questa qui e questo tutorial mi è stato richiesto da alcune di voi quindi ho deciso di realizzarlo io spero che vi piaccia e ovviamente sono degli orecchini al lobo ma si possono utilizzare anche benissimo come perni per i nostri orecchini con qualsiasi tecnica quindi vi lascio subito alla lista dei materiali per realizzare i nostri orecchini girasole abbiamo bisogno di una base per orecchini io utilizzerò questa qui che andrà incastonata all'interno della lavorazione e come farfallina io utilizzo questi gommini di silicone li trovo molto comodi perché aderiscono bene all'orecchio e li posso utilizzare con qualsiasi colore di perno questa è una base da 8 mm utilizzeremo poi dei mezzi cristalli da 3 mm io utilizzo questi qui che ho preso tempo fa da hobby perline e sono la colorazione bronze avremo bisogno poi anche di bicono da 4 mm io sto utilizzando l'ocea mix della preziosa e nello specifico utilizzerò questa colorazione qui che è un colore molto bello utilizzeremo poi delle rocaio 11 0 e delle rocaio 15 0 e ho scelto sempre le colorazioni bronze che mi piacciono molto ormai lo sapete poi avremo bisogno di super duo queste sono le turquoise picasso prese da perline gioielli un l'ango numero 12 e in questo caso io utilizzerò un filo monofilamento quindi un nylon monofilamento che ultimamente sto apprezzando di più in alcune tipologie di lavorazioni e perché mi garantisce appunto la trasparenza del filo questo filo dovrebbe essere da 0 16 il primo passaggio che andrò a fare inserire tre rocaio 15 0 sul lago e chiudere la lavorazione a cerchio ripassando il filo più volte all'interno delle nostre tre rocaio dopo aver chiuso la lavorazione a cerchio otteniamo questa figura e abbiamo ovviamente il filo che fuoriesce da una delle rocaio quindi prendo una rocaio 11 0 e la inserisco nella rocaio 15 0 successiva ripeto questo passaggio altre due volte nell'ultimo passaggio rientro sia nella 15 0 che nella 11 0 successiva ora andremo a lavorare con le superduo ho il filo che fuoriesce da una 11 0 come vedete prendo due superduo sul lago e rientro nella 11 0 successiva ripeto lo stesso passaggio altre due volte questo è il risultato vado arrivassare ulteriormente il filo all'interno delle nostre perline ora ho il filo che fuoriesce dal foro inferiore di una delle superduo della coppia che ho inserito e passo il filo nel foro superiore della superduo stessa qui andremo a lavorare con il bicono da 4 mm e inserisco un bicono appunto nella coppia di superduo poi prendo un mezzo cristallo da 3 millimetri e lo inserisco nella superduo successiva prendo un altro bicono da 4 millimetri e lo inserisco nella superduo successiva e continuo così un altro mezzo cristallo un altro bicono e l'ultimo mezzo cristallo da 3 millimetri anche in questo caso ripasso il filo all'interno delle perline come vedete questo è il risultato che abbiamo ottenuto essendo una lavorazione molto aperta qualora non dovesse piacervi che si intraveda il perno al di sotto della lavorazione con le superduo potete anche decidere di incollare al perno un pezzettino di feltro o qualsiasi altra cosa voi vogliate nel caso dell'altra dell'altro perno che ho realizzato io semplicemente colorato il perno con dei colori indelebili in modo che appunto non si vedesse all'argento del perno sottostante mi sono portata con il filo che fuoriesce da questa superduo qui come vedete ecco il filo e ho inserito 5 rocaille 15 0 sul lago vado a rientrare all'interno della superduo successiva e ripeto questo passaggio per tutti i mezzi cristalli e il bicono della lavorazione quindi dobbiamo creare altri cinque archetti come vedete ho completato tutto il giro e ho creato gli archetti con 5 rocaille 15 0 su ogni mezzo cristallo o bicono da 4 mm ora mi porto con l'ago che entra nelle prime tre perline dell'archetto successivo ecco qui dobbiamo cominciare a stringere la lavorazione poi inserisco 3 il rocaille sul lago e rientro nella perlina centrale quindi nella terza ecco qui dell'archetto successivo dobbiamo ripetere questo passaggio per tutti gli archetti tirate bene il filo per far chiudere il lavoro e inglobare il perno all'interno quindi ci vediamo appena terminato questo è il risultato che dobbiamo ottenere sul retro e adesso andrò a inserire una perlina in ogni spazio che si è venuto a creare quindi prendo una rocaille 15 0 e rientro nelle tre perline successive successive in questo modo e ripeto questo passaggio per tutto il giro come vedete ho inserito una perlina in ogni spazio e adesso ho il filo che fuoriesce da una delle perline sporgenti in questo caso da questa qui prendo due rocaille 15 0 sul lago e rientro nella perlina successiva ecco qua in questo caso possiamo anche già inserire il perno e andremo mano a mano a stringere con l'inserimento di queste perline quindi ripeto questo passaggio per tutto il giro ho completato tutto il giro e ora ho il filo che fuoriesce da una coppia di perline che ho appena inserito rientro nella coppia di perline successiva senza inserire nessuna perlina inserisco poi una perlina nello spazio successivo rientrando nelle due perline seguenti eccole qua rientro di nuovo rientro di nuovo nelle due perline successive senza inserire un'altra rocaille 15 0 e tiro bene prendo un'altra rocaille 15 0 sul lago e rientro così nelle quattro perline successive ho ripetuto questo passaggio in totale per tre volte perché in questo modo vado a inserire una perlina ogni quattro perline in modo da stringere ulteriormente la lavorazione ora il filo che fuoriesce da una perlina sporgente in questo caso è questa qui prendo due rocaille 15 0 e rientro nella 15 0 sporgente successiva ecco qua ripeto lo stesso passaggio con l'altra perlina quindi prendo altre due 15 0 e rientro nella 15 0 sporgente successiva infine ripeto l'ultima volta questo passaggio rientrando nella 15 0 di base e poi ripasso il filo più volte all'interno di questo passaggio perché in questo modo il lavoro risulterà più compatto più solido ed ecco qui i nostri orecchini girasole sono terminati io spero che questo tutorial vi sia piaciuto fatemi sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti qui sotto io mi invito a iscrivervi al canale per non perdere i futuri video e noi come sempre ci vediamo prestissimo con nuovi video un bacione alla prossima ciao